A Palermo la manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il presidente della regione Crocetta, c'è anche Beppe Grillo, l'inviata, Claudia Mazzola. Torna in Sicilia Beppe Grillo, la regione che gli ha regalato il boom alle politiche, pieno di voti non replicato negli appuntamenti elettorali successivi. Ma da queste parti il Movimento resta uno dei partiti più forti. Ironico con i giornalisti, a Palermo dribla le domande. Il libro della democrazia, me lo spiegate un attimo, io sono libero di non rispondere, potrei esserlo secondo voi, vuoi il vostro lavoro. Grillo per parlare aspetta il palco, da lì tra poco arringherà la folla, l'offensiva 5 Stelle procede in piazza e questo il nostro posto, ripete continuamente Grillo ai suoi. E qui dove la disoccupazione raggiunge cifre record e dove il malumore contro la crisi e la Sicilia degli sprechi cova profondo a gioco facile. Questa piazza è per sfiduciare il presidente della regione Crocetta, passo successivo nelle intenzioni grilline andare alle urne e vincere, anche se il nemico politico rimane il governo Renzi. I parlamentari PD farebbero bene a far cadere il governo, visto che si regge su sette voti al Senato. Le correnti di Cipati, Cuperlo e gli altri, possono far cadere il governo quando vogliono e salvare i lavoratori da questa catastrofe dell'abolizione dell'articolo 18 e tutto quello che deriverà dal Job Act. Se non lo fanno hanno fatto solo una sceneggiata. Prima del leader sul palco si alternano parlamentari e amministratori locali, i temi sono quelli di sempre, onestà, trasparenza, lotta alle caste.